signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale arriviamo a completare il nostro giro della grande ruota andando infine a parlare dei piani del caos dove la natura stessa della realtà ribolle e nessuno sa che cosa si deve aspettare sicuramente quelli che già la grande ruota la conoscono avranno notato che con i piani del caos non abbiamo finito il discorso ma di questo parleremo poi in fondo al video adesso cercate di focalizzarvi sulla realtà perché in questo video potrebbe succedere qualunque cosa il caos è la prima delle grandi forze dell'universo quella che esisteva prima di tutte le altre anche se quando esisteva solo il caos non esisteva ancora il tempo quindi il concetto di prima e dopo non ha senso il caos è la forza del cambiamento è la forza delle emozioni è la forza delle passioni ed è la forza del ciò che potrebbe essere rispetto al ciò che cos'è è la forza che guida gli artisti gli innovatori gli esploratori ma è anche la forza che disgrega la realtà e distrugge tutto ciò che è per trasformarlo in un ribollire indistinto in quanto altra grande forza dell'universo anche in questo caso il caos è ostile ai mortali in realtà il caos è ostile all'universo stesso perché se la grande guerra dell'ordine contro il caos venisse vinta dal caos l'universo smetterebbe di esistere e ritornerebbe essere un ribollire costante di tutto all'interno di tutto il resto i fiani dominati dal caos prendono questo principio e lo espandono in vari modi rendendoli molto interessanti come ambientazione per le vostre avventure quanto letali per i vostri personaggi il più caotico dei piani caotici dove la vera essenza del caos ribolle e si espande per la grande ruota è quello che viene chiamato il mutevole dominio del limbo o semplicemente il limbo un luogo che non ha regole da cui bisogna aspettarsi tutto e non ci si può aspettare niente e dove la natura stessa della realtà fondamentalmente si sgretola in un infinito turbignare di materia energia senza un senso e senza uno scopo è effettivamente molto difficile descrivere la natura del limbo il caos mutevole del suo dominio non ha riferimenti per i mortali è possibile trovare sia materia energia in uno stato caotico turbini di fuoco acqua ghiaccio magari interi iceberg di metalli preziosi che galleggiano nel nulla per poi venire schiacciati da blocchi grandi come continenti di materia molto simile a quello che potrebbe essere un paesaggio del piano materiale o magari bizzarre costruzioni aliene che a loro volta ti si disgregano e si ricompongono per diventare montagne fiumi laghi ma con montagne fatte di ghiaccio attraversate da fiumi di lava non ha senso la maggior parte del piano è letteralmente ostile alla vita non necessariamente c'è aria un qual quella che in un momento aria respirabile potrebbe improvvisamente diventare un blocco solido di granito e intrappolare il viaggiatore se non il viaggiatore stesso potrebbe essere trasformato in qualcos'altro l'unica cosa che permette la vita nel limbo è che la sua natura plastica in quanto piano esterno è soggetta alla volontà delle creature senzienti nel caso specifico del limbo anche un normale mortale non necessariamente una figura divina o semi divina può rimodellare a volontà il paesaggio intorno a sé un viaggiatore planare che sia preparato e che abbia abbastanza forza di volontà può imporre la propria volontà sul limbo e crearsi una sorta di bolla di realtà attorno a sé che può plasmare per renderla ospitale per sé stesso all'interno del limbo sono presenti anche veri e propri insediamenti soprattutto dei ghizrai che sono stati esiliati dopo una ribellione dei mainflayer questo è qualcosa di cui dobbiamo parlare prima o poi ma esistono veri e proprie città in cui il corpo di guardia della città ha come principale occupazione quella di pensare intensamente a mantenere coesa la città per permettere agli abitanti di abitarvi inutile dire che questo è un atto che richiede un notevole sforzo di volontà e che quindi non può essere sostenuto all'infinito da un mortale oltre a questi ci sono anche i domini delle divinità del caos che normalmente sono anche se solo leggermente più organizzati rispetto alla natura notevole del limbo e gli unici abitanti veri e propri nativi del posto sono gli slad una razza di esterni che si riproduce in maniera parassitica e anche in quel caso non è possibile tracciare una vera e propria genealogia in quanto creature del caos più puro probabilmente è quello che è più facilmente sfruttabile dai mortali ma per quanto possa essere manipolato con la forza di volontà è comunque rischiosissimo anche solo provare a andare nel limbo perché non c'è alcuna garanzia che al momento in cui si accede al piano non lo si faccia all'interno di una bolla di acido o nel punto di origine di una palla di fuoco e si è materializzata dal nulla dove la natura grezza del caos incontra il bene sorgono i domini eroici di isgard la terra delle battaglie meritevoli degli eroi e della spinta alla competizione per la gloria i domini eroici di isgard è un piano ad anello è formato da tre strati ma questi strati sono costantemente in una natura squilibrata tra di loro che tende a letteralmente farli cadere addosso l'uno all'altro formando sull'estremità dello strato fiumi di terra che scorgono da una parte all'altra se si potesse vedere i domini eroici di isgard da molto molto in alto li si vedrebbe appunto come una sorta di anello di terra che continua a ruotare su se stesso franando infinitamente più ci si avvicina al centro delle masse continentali dello strato meno questo effetto si fa sentire ma è comunque un piano dove i terremoti sono molto frequenti e la natura è molto aspra il continuo movimento planare può far emergere dal nulla catene montuose il territorio di per sé è particolarmente aspro e pieno di roveti oscure foreste e tutte quelle categorie di posti dove normalmente gli eroi vanno a compiere le loro imprese più eroiche combattendo sia contro i loro nemici che contro il clima ostile e le intemperie nonostante la natura ostile del piano e il fatto che i cicli delle stagioni e le intemperie avvengano in realtà in maniera casuale isgard è un piano molto abitato ed è appunto il dominio degli eroi sia gli abitanti planari che i supplicanti del piano tendono a essere persone rudi che preferiscono la vita avventurosa esistono pochi grandi insediamenti ma tantissimi piccoli villaggi o anche solo capanne isolate perse in mezzo alla natura selvaggia dove gli eroi di isgard vivono la loro vita cavandosela da soli e combattendo costantemente contro tutti qui anche dove risiede il pantheon norreno ed è anche molto facile trovare enclavi della feria creature fatate folletti satiri e anche il luogo di origine dei bariaur gli omini capra che in realtà sono molto comuni in tutta la grande ruota e ovviamente qui e dove i supplicanti cioè del piano cioè quelli che nella vita furono stati grandi eroi vengono a riposare per l'eternità e particolarmente famosa in realtà sono più di una le piane della battaglia di isgard dove chiunque muoia in battaglia risorge il giorno dopo e sono una vera e propria attrazione turistica del piano perché si possono assistere ogni giorno a scontri campali tra eserciti che fondamentalmente vengono lì per perseguire l'attività militare come uno sport a metà tra l'allenamento e il larping questo però è qualcosa che si applica solo ai visitatori planari e ai supplicanti del piano i nativi non rinascono il giorno dopo e quindi tendono a stare lontani da queste fondamentalmente villaggi vacanze per criminali violenti dove il caos viene contaminato dal male sorgono gli abissi ventosi di pandemonium il pandemonium è un piano totalmente sotterraneo non esiste una superficie del piano si estende all'infinito come un'unica enorme massa rocciosa attraversata da una rete potenzialmente infinita di caverne cunicoli alcuni di dimensioni spettacolari ci sono caverne grandi quanti interi continenti e cunicoli che si estendono anche in questo caso all'infinito ma la maggior parte delle zone abitabili diciamo così è molto cupa opprimente costantemente avvolta nell'oscurità e a dare il nome al piano in un fortissimo vento che spazza via qualsiasi cosa si trova nei cunicoli è praticamente impossibile tenere una torcia accesa solo lanterne schermate o fonti di luci magiche possono essere utilizzate e ovviamente girare con una fonte di luce in un luogo di oscurità attira immediatamente l'attenzione è molto facile essere colti di sorpresa dagli immondi che abitano al piano soprattutto perché a dare il nome poi di pandemonium al piano e il costante rumore del vento e delle voci che vengono portate dal vento che risulta praticamente impossibile sentire e anche solo comunicare al di là di qualche metro e anche per ottenere quello bisogna urlare e la versione infernale di stare vicino alle casse della discoteca mettiamola così il pandemonium per questo motivo non non ha un vero e proprio ambiente naturale anche se alcune città e alcuni più piccoli accampamenti sorgono nelle caverne più grandi ci sono delle fonti d'acqua ma la maggior parte di esse sono collegate allo stige il fiume che attraversa tutti i piani inferi e quindi sono contaminate o hanno effetti di perdita della memoria che è l'effetto dell'acqua e lo stige e al di là di questo il vento spinge a volte quest'acqua attraverso i cunicoli o anche solo spazzando nella superficie alzando fondamentalmente una nebulizzazione liquida che rende tutto vicido umido e rende anche molto difficile avanzare esistono dei reami divini ma normalmente sorgono in zone lontane dai cunicoli le caverne più grandi e sono stati creati qui appunto per essere isolati e indisturbati tranne alcune creature corrotte dal caos e probabilmente totalmente cieche e sorde il pandemonium non ha degli abitanti naturali e però tra i piani inferi quello dove è possibile trovare la maggior parte di creature mortali normalmente perché esiliate o discendenti di creature che qui sono state esiliate è possibile trovare diverse enclavi di goblinoidi, drow, nani malvagi, altre razze sotterranee ma difficilmente qualcuno sceglie volontariamente di venire a vivere al pandemonium la maggior parte sono persone che o non possono andare da altre parti o sono state per qualche motivo intrappolate qui dentro e da quelli hanno poi avuto origine comunità più grandi è anche uno dei piani di passaggio e non è così impossibile trovare qui delle schermaglie legate alla guerra sanguinosa anche se la natura del piano è talmente ostile e caotica da rendere difficile combattimenti di massa e quindi si tratta semplicemente di attacchi a linee di rifornimento o azioni di schermaglia e diciamo che per questo video è tutto adesso avete anche i domicili eroici di Isgard come località per le ferie se siete interessati allo sport estremo o potete aver finalmente capito che la guanda e ruota non è un posto adatto agli avventurieri punto prima di terminare però bisogna ancora specificare qualcosa come probabilmente molti di voi avranno notato da questa trattazione dei piani ne mancano ancora quattro i piani che sono esattamente a metà tra i due allineamenti e che formano gli altri quattro angoli della grande ruota quelli sono i piani in cui c'è più da dire e quindi li ho voluti tenere a parte probabilmente farò un video per ogni diade o un video per ogni piano adesso non ho ancora deciso anche perché prima di parlare di quei piani bisognerebbe spendere due parole su quella che è la guerra sanguinosa e i conflitti planari diciamo che per ora questa serie va in pausa per qualche settimana non so ancora dirvi esattamente per quanto lo vedremo questi video ovviamente sono stati tutti registrati però nel caso fatemi sapere voi come preferireste vedere la trattazione della cosa per il resto se avete domande dubbi perplessità scrivete scrivete anche eventuali avventure che avete vissuto sui piani del caos come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master cae noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao